Stringo i glutei, proteggo la schiena e spingo, ok? Ora, mentre scendo, prima prendi l'aria, scendi, buttando fuori, giù, rimango, prendo l'aria, tira dentro la pancia, stringi, proteggi la schiena, butta fuori e sai. Giovanna e Simone, state lavorando? Ripeto, scendi. Prendi, l'aria, ritira la pancia, stringi, soffi e sai, su! L'ultima volta, inspira, scendi lenta, butti fuori l'aria, rimango, giù, inspira, stringi tutto, proteggi la schiena, sai. Ok, ritiro la pancia, porto le ginocchia sotto al bacino, vado indietro, scarico. Torno, mettete le portate tutte le ginocchia che vi danno un fastidio, e andiamo a fare questo lavoro, in Z position. Allora, stringi i glutei, stringi le cosce, stringi la pancia, braccia avanti, spalle giù. Vai un po' indietro, come se fosse un unico blocco. Quindi vai un po' indietro, stringi tutto e ritorna. Ora ti chiedo, stringi forte, torna e là. Ora, prendi e fuori e sali. Ancora, stringi forte, mantieni. Non portare dietro il sedere, non portare avanti il bacino. Ok, c'è un unico blocco, ancora vai. 8 e sali, stringi tutto, 7 e sali. Fate, 6, vedo solo se ci siete, perfetto. 5, vai, 4, vai. Stringi il topo e il sud di tutto le cosce, una contro l'altra. 2 e l'ultimo e 1, lascio e stop. Appoggio le mani, sollevo su, mi avvicino un po', sollevo su il sedere, spingi bene i tagli a terra e allunga tutta la patina posteriore. Da qui, porta i piedi verso le mani, chiudi la pancia e spiro, soffio, srotolo. E giro di qua. Ottimo, andiamo a lavorare dall'altra parte. Porto, immagino, un filo a più ovo che dall'apice della testa scende tra i due piedi. Apro la gamba destra, piego questa sinistra, mi allungo, sollevo, con la gamba oltrepassa questo filo immaginario, attivando gli adduttori. Forti muscoli profondi e scendo. Allunga la schiena, butta fuori 1 e inspira. Butta fuori, oltrepassa questo filo immaginario. E vai, e là, e 5, e allungati, allontana le spalle dalle orecchie, vai, là, allungati. Se vi manca un po' di equilibrio, vi appoggiate su una sedia, ok? Però lavorate bene con questi muscoli, vai, e allungati, lo facciamo l'ultima volta. Vai, allungati, e stop, ottimo. Porto la mano destra qui, piego la sinistra, e allungo tutta la schiena. Spirale, guardo indietro, ritira la pancia, butta fuori l'aria, e sali con la gamba. E inspiro, mi allungo, e sali, ok? Ora mi concentro, pronti? Vai, e fuori l'aria, mi allungo, fuori, mi allungo, ancora. 3, e là, 4, e là, 5, cresci con la schiena, ma soprattutto attiva i muscoli più profondi, quelli che ti danno stabilità. Vai, e là, l'ultimo, fuori l'aria. Bravissimi, mi giro di qua, piego tutte e due le gambe, porto il peso sulla parte avanti del tallone destro, quindi le gambe piegate, ma il peso è da questa parte. Da qui, stringo dietro il gluteo, forte, allungo la schiena, ritorno, porto il peso sul tallone, e mi allungo, e appoggio. Stringo il gluteo, butto fuori l'aria, e riprendi, e allungati, e riprendi. Marina, ci sei? E, datemi un segnale, mi fumo, e torno, ancora, fuori, e torna, e stringi il gluteo, e torna. Allungati bene con la schiena. L'ultimo, mi allungo, porta il peso, lascio, ho il tappellino, mi faccio un pozzo avanti, roll down, inspiro, buttando fuori l'aria, scendo con una vertebra alla volta, la testa, tutte le vertebre del collo, porto dentro la pancia, le spalle, le vertebre del dorso una a una, pancia dentro, le spalle, adesso le lasciate giù, venite in avanti, e ci può, posizione del plank, ecco, ci entrerà tutta, allora, ci può, rimani qua, dentro la pancia, stretti i glutei, stretti i malleori, strette le cosce, ci non può, appoggia il ginocchio, e rimani qua, sempre in una posizione attiva, quindi dentro l'ombelico e stai, così per ci può, eh? rimani ancora, respira, stringi tutto, allunga il collo, ombelico indentro, glutei stretti, cosce strette, appoggio il ginocchio sinistro, lunga la gamba destra, stringi il gluteo e disegna dei cerchi. La tua gamba è lunghissima, nel pilates si lavora in allungamento, quindi devi pensare di toccare con il tuo alice la parete dietro di te. Due. Cambio la direzione dei cerchi, respiro, stabilizza il bacino, va tutto bene? Se state lavorando forte, rimango, allunga il braccio sinistro, rimani, fai dei cerchi solo col braccio sinistro, cerchi. Cambio la direzione dei cerchi, ricordati di spingere le tue scapole verso la tasca dei pantaloni. Ora, pulisci gambe e braccio, 4, 3, 2, cambio la direzione, 4, 3, 2, 1, lascio, appoggio, porto dentro l'ombelico, scarico la schiena, vado indietro. Torno, ottimo, ok, porto il bacino un po' più avanti delle ginocchia, scendo lentamente, inspiro, mi preparo, porto fuori, scendo, rimango giù, appoggio il petto e stop. Ora, tira dentro la pancia, stringi, proteggi la schiena, prendi l'aria mentre soffi, sali, su, dentro eh, riprendo, scendo lentamente, giù. Rimango, inspiro, dentro l'ombelico, stringi, proteggi, soffiando, sali. Ancora, prendi l'aria, scendo, giù. Rimani, inspira, stringi, un petico, glutei, sali, lenta. Ok, ultime due volte, prendi l'aria, scendi. Rimani, stringi tutto, proteggi la schiena, sali. L'ultima volta, prendi, scendi, tento. Rimango, inspiro, stringo, proteggo la schiena, salgo. Ok, avvicino un po' le ginocchia, ritiro la pancia, scarico, mi allungo. Mentre vi allungo, io vengo a vedere solo se voi siete vivi. Allora, sì, perfetto, vai. Ok, da questa posizione, torno, vado a fare la Z-Position. Stringi forte i glutei, stringi forte l'addome, braccia avanti, abbassa le spalle. Immagina di essere tutto un blocco e vai indietro. Se senti che fai di foto, lo fai piccolo, altrimenti osi un po' di più. Stringi tutto forte qui e sali. Lo facciamo lento. Via e vai. Stringi forte, mantieni. E sali. Ancora, vai. Stringi, mantieni. E ancora, vai. Vai, Lea. Stringi e sali. Ancora, tre. Stringi, mantieni un po'. E sali. Due, vai. Stringi. Passa le scapole. E vai l'altro. Stringi forte. E ok, perfetto. Appoggio il gluteo sinistro. Porto tutte e due le gambe avanti. Se avete bisogno di bere, vi lascio tre secondi per bere. Allora, state bene? Mi sentite? Mi vedete? Siete vivi? State lavorando? Perfetto. Andiamo giù a terra. E portiamo tutte e due le gambe in appoggio. Metto le mani dietro. Scendo lentamente. Noi, mamma.